Molto spesso sento dire alle persone che per fare trading ed essere profittevole c'è bisogno di operare con grandissimi capitali e molte persone si lamentano che appunto non hanno un capitale grande con la quale operare per rendere il trading un lavoro vero e proprio. E se ti dicessi che anche tu puoi ottenere un account con un capitale grandissimo per poter operare, stiamo parlando di 50, 100, addirittura anche 200 mila euro per poter operare e prendere eventualmente tutti i profitti che generi. Stiamo parlando ragazzi delle proprie firme, per chi non sapesse che cosa sono ve lo spiego subito. Prima di iniziare però come sempre ragazzi benvenuti in questo nuovo video, se non mi conoscevo sono Salvatore, lascia subito un like al video per supportarmi, come sempre iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e adesso iniziamo. In questo video nello specifico ragazzi parleremo di MyForexFunds che è una delle tante proprie firme disponibili, una delle più affidabili sicuramente e una delle più famose anche. In sostanza una proprie firme ragazzi è un'azienda che in pratica ci presta un capitale per fare appunto trading e in cambio ovviamente prende una parte dei profitti. Giusto per farvi capire subito, offre dei programmi, delle valutazioni, quindi delle gare, delle challenge sostanzialmente, da svolgere e se si superano la proprie firme in questione ci darà il capitale per operare. Quindi possiamo decidere noi il capitale che vogliamo per operare in base al capitale che ovviamente decidiamo di adottare, c'è da pagare una cosiddetta fili di registrazione che ci verrà restituita se ovviamente superiamo quella che è la challenge. Poi andremo a vedere anche nello specifico di che cosa si tratta. Quindi in base al capitale vedete qui c'è 5.000, 10.000, 20.000 fino ad arrivare a 300.000 dollari e ovviamente la fee diventa sempre più alta. Se non superiamo questa gara perdiamo ovviamente la fee che andiamo a pagare, se invece superiamo la gara ci restituiscono quello che abbiamo pagato e in più abbiamo il capitale disponibile e di conseguenza andiamo a prendere i profitti. Profitti che vengono ovviamente divisi con la prop in questione, quindi una parte dei profitti la prende la prop, esempio 80-20, quindi un 80% dei profitti va a noi, un 20% dei profitti generati va alla prop firma. Vi faccio un esempio, se prendiamo un capitale da 300.000 dollari e generiamo 50.000 dollari, 100.000 dollari di profitto, ok? Di quei 100.000 dollari di profitto possiamo prelevarli e 80 andranno ovviamente a noi e 20 di conseguenza andranno alla prop firma. Come funziona la challenge e quali sono i requisiti? Vi aggiorno ragazzi durante il video perché appunto è cambiato lo sharing dei profitti, il primo mese si verrà pagato il 75% dei profitti, l'80% il secondo mese e poi dal terzo mese in poi si passa all'85% addirittura dei profitti. Questa è una cosa che ha inserito Mario Forex Fund. Possiamo andare a vedere ragazzi che ci sono diverse challenge da affrontare, infatti se andiamo nei programmi c'è la rapida, l'evaluation e l'accelerata e ovviamente hanno dei requisiti totalmente diversi ed anche dei prezzi totalmente diversi. Adesso li andiamo ovviamente a vedere. Nella rapid c'è un 5% daily drawdown, ciò vuol dire che non possiamo superare il 5% di drawdown del nostro capitale, ciò vuol dire ragazzi che non possiamo andare in perdita nemmeno temporanea di più del 5% del nostro capitale in un singolo giorno. Ovviamente ci sono delle cose da rispettare, altrimenti ragazzi molte persone che non sono trader andrebbero a bruciare il capitale, ovviamente per MyForex Fund sarebbe un danno e quindi ci sono dei parametri da rispettare. Mentre questo è il daily drawdown, il 5%, mentre ad esempio il 12% è un overall drawdown, ciò vuol dire che se nel daily drawdown non si supera il 5%, l'account non ci viene tolto e la sfida continua. Se però superiamo un totale drawdown del 12% dell'account, ragazzi si perde lo stesso la sfida. Ciò vuol dire che se abbiamo un account di 100.000 dollari e stiamo perdendo 12.000 dollari, l'account verrà chiuso. Mentre se perdiamo in un solo giorno 5.000 dollari, più di 5.000 dollari stiamo perdendo, l'account ci viene chiuso lo stesso. E questo ovviamente, questi parametri ragazzi ci sono in tutte le challenge. È logico perché questa è un appunto challenge nel quale MyForex Fund dà prima di avere accesso a quei fondi veramente per vedere se effettivamente il trader che ha scelto l'account è un trader sostanzialmente profittevole, affidabile, che opera con un metodo che non rischia di bruciare tutto il capitale. Qual è il vantaggio di questa Rapid, della prima che abbiamo visto? È che non c'è nessun target, quindi non c'è la challenge da affrontare prima di ricevere ovviamente l'account. Qual è lo svantaggio? Ragazzi, che costa un po' di più è che tu sarai pagato il 12% dei profitti che guadagni nel tuo account, in questo caso qua della Rapid. Inoltre c'è un minimo di trading di tre volte a settimana quindi bisogna aprire almeno per tre giorni le operazioni quindi vedete ci sono dei requisiti da rispettare io personalmente questo Rapid non lo preferisco. La leva utilizzata è da 1 a 500 e poi c'è il solito drawdown giornaliero e il massimo drawdown. Le fee che vedete sono queste 100 dollari per un account da 10.000 fino a 749 per un account da 100.000 e non ci sono fee mensili. E poi ovviamente ragazzi ci sono gli altri programmi l'evaluation che secondo me è quello più interessante ragazzi bisogna superare la challenge qui c'è una prima fase in cui bisogna arrivare ad un 8% di profitto ciò vuol dire che se scegliamo l'account da 100.000 dollari dobbiamo arrivare a 8.000 dollari di profitto per superare la fase 1 successivamente un altro 5% per superare la fase 2 superate le due fasi ci viene restituita la fee in questo caso 500 dollari e possiamo continuare ad operare con il nostro account e di conseguenza tutti i profitti che genereremo con i nostri 100.000 dollari in questo caso c'è una leva da un accento da poter utilizzare possiamo successivamente andarli a prelevare e dividere ovviamente i profitti con la PropFilm ovviamente ragazzi ci sono vantaggi e svantaggi però un vantaggio può essere che se si diventa un trader comunque profittevole abbiamo una nostra strategia con una fee magari vedete una persona che non ha un account da 20.000 dollari ok pagando 139 dollari che è una cifra abbordabile ma anche 299-499 poi ovviamente si può utilizzare un capitale più piccolo inizialmente e iniziare ad accumulare qualcosa prelevarli per pagarci un account più grande fino ad arrivare magari a un account di 300.000 e addirittura più account da 300.000 e se si è profittevole ragazzi di conseguenza si opera con un account molto molto grandi e si riescono a prelevare delle cifre davvero interessanti e quindi di conseguenza andiamo a scegliere quella che è la formula che fa più per noi in questo caso ci sono 5 giorni di trading minimo per superare la prova quindi seppure la fate in un giorno ragazzi dovevano passare i 5 giorni minimi e poi ci sono già i target che abbiamo visto prima il daily drawdown, l'overall drawdown e le due fasi di profitto per andare ovviamente a sbloccare quella che è la prop infine ragazzi l'ultima modalità che è quella accelerata che non dà nessun daily drawdown dà solo il drawdown totale che può essere del 5 o del 10% in base a quale modalità scegliamo perché ce ne sono due adesso ve le faccio vedere c'è una convenzionale e una empatica ovviamente e qual è la differenza? che non c'è di drawdown c'è soltanto il drawdown totale quindi nella giornata possiamo andare anche al di sotto una leva fino a 100 per e l'account viene scalato ogni 10% o 20% di profitto in base a quale scendiamo cosa significa che si passa a quello successivo quindi vedete to get the next milestone 10% in questo convenzionale 20% in quello empatico qui le fie ragazzi sono un po' più alte soprattutto in quello empatico non ci sono daily drawdown qua c'è il 10% di overall drawdown totale quindi per un account da 50.000 purtroppo per questa modalità non sono disponibili account più bassi ma se si supera e si fa il profitto l'account viene scalato quindi si inizia a salire sempre di più ragazzi con il budget però al massimo si può partire con 50 e il 10% significa che più di 5.000 dollari non possono essere persi non nella giornata ma in totale quindi nella giornata si può andare anche al di sotto del 6-7-8-9% se si fa al di sotto del 10% ragazzi si supera l'overall drawdown totale e ovviamente in questo caso si va fuori poi possiamo andare a vedere le fie che sono molto molto più alte e in metri quello convenzionale le fie sono leggermente più basse e c'è un drawdown overall ragazzi della metà praticamente quindi del 5% no daily drawdown e per andare all'account successivo basta il 10% di profitto e qui il pagamento è settimanale personalmente ragazzi io preferisco l'evaluation quindi tra tutti e tre che è quello là diciamo standard bisogna superare le due fasi per ricevere l'account è una sorta anche di metodo per vedere se siete effettivamente dei trader con un metodo profittevoli e di conseguenza poi le fee sono quelle là più basse come potete vedere anche accedere a un account di 50.000 dollari ragazzi costa 300 dollari che potete pagare in qualsiasi metodo vi dascio in descrizione il referral link di MyForexFound che anche personalmente utilizzo ragazzi è un account da 20.000 dollari e ovviamente poi adesso andiamo un attimo a parlare della parte diciamo profitti eventualmente come si gestiscono i profitti che possono essere prelevati ma ragazzi per quanto riguarda la legge italiana impone che per utilizzare una propria firma c'è bisogno di avere partita IVA purtroppo è ne considerato non vengono applicate tasse perché è la propria firma che vi paga quindi nel senso che se la guadagnate 10.000 dollari le dividete con la propria firma le prelevate ma avete bisogno di partita IVA per quello che è lo Stato italiano perché lo considera un lavoro continuativo e quindi di conseguenza la propria firma vi paga quindi è come se avesse svolto un lavoro per la propria firma e di conseguenza lo Stato italiano vuole per forza una partita IVA per poter operare poi è possibile operare anche senza partita IVA sì ragazzi potete farlo ovviamente non vi sto consigliando di farlo potete farlo tranquillamente poi se guadagnate volete prelevare e volete aprirla successivamente è una cosa che può essere fatta perché quando andate a scegliere l'account e prenderlo e operare non vi chiede nessuna partita IVA però ovviamente vi dico che per avere un rapporto con una propria firma per operare con una propria firma e se guadagnate avete per forza bisogno di una partita IVA ovviamente ragazzi rivolgetevi ad un commercialista se avete intenzione di fare questo adesso quando vedete quei super account ragazzi con 500.000 dollari anche perché ci sono delle prop che danno anche di più sapete ragazzi che la maggior parte di quei trader non hanno veramente quei soldi e quindi ovviamente operano con delle prop e quindi anche voi se siete dei trader quantomeno anche poco profittivoli ragazzi vi ricordo che ovviamente non bisogna essere per forza molto profittevoli potete anche prendere un account e gestirlo con un rischio rendimento molto molto alto rischiando pochissimo e andando a prendere dei profitti molto alti e quindi di conseguenza avere un rischio rendimento interessante e non andare al di sotto del drawdown che è massimo e quindi anche gestirla nel tempo non dovete per forza superare la sfida subito gestite magari l'account potete anche tra l'altro operare con le criptoalute purtroppo vero ragazzi o meglio non per forza purtroppo la piattaforma utilizzata è l'MT4 non è come un exchange se non avete confidenza vi dico che è abbastanza facile da utilizzare anche molto facile trovate tantissimi tutorial online se volete poi un tutorial sulla piattaforma MT4 ragazzi fatemelo sapere nei commenti potete utilizzare MT4 MT5 e quindi di conseguenza operare anche con Bitcoin però ragazzi appunto su piattaforma MT4 non su exchange non con i futures e una volta ragazzi scelto l'account andate a registrarvi inserite i vostri dati effettuate il pagamento che potete fare in qualsiasi modo anche in criptovalute e quindi poi vi verranno dati i dati per accedere appunto alla piattaforma MT4 che potete scaricare online e successivamente con i loro dati che vi verranno dati nell'arco della giornata potrete fare login nella piattaforma MT4 con il capitale che vi hanno dato e iniziare ad operare molto semplicemente e poi ragazzi vi ricordo che con la piattaforma MT4 mettere i take profit e gli stop loss è molto molto più facile perché appunto li potete mettere direttamente a grafico come se fosse trading view poi se non sapete ragazzi trovate tantissimi tutorial online se volete che lo faccio io fatemelo sapere nei commenti qua scegliete il metodo di pagamento dati carta eccetera eccetera e di conseguenza andate a a prendere il vostro account come sempre fammi sapere nei commenti se c'è qualcosa che non hai capito lascia like a questo video io ti aspetto al prossimo iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto grazie a tutti